Mancano pochi giorni all'apertura delle scuole e su un tema di grande importanza per tantissime famiglie regna ancora l'incertezza. È scandaloso che all'inizio di settembre, dopo tutti i periodi in cui si sarebbe dovuto riflettere, anche tenere una posizione chiara, avere degli interlocutori certi, beh ancora si sia nell'incertezza e si attenda l'ennesima interpretazione del Ministro. Di vampa la polemica sulle dichiarazioni del Ministro all'istruzione Lucia Zolina, la quale ha spiegato che in caso di una singola positività in classe, la decisione sull'eventuale quarantena sarà delegata all'azienda sanitaria competente. Alla fine penso che il Ministro Zolina farebbe bene veramente a tacere, a lasciare alcune cose scritte con chiarezza invece di continuare ad interpretarle, perché da scarica la responsabilità che dovrebbe essere della scuola dello Stato e quindi del Ministero dell'Istruzione, ricordiamoci che la scuola è competenza esclusiva dello Stato, beh questo dovrebbe essere un'assunzione di responsabilità, non scaricare su dirigenti scolastici o oggi addirittura su un funzionario dell'Ulss. Dalla tradizione scolastica arriva anche una proposta che potrebbe rivelarsi molto importante per i prossimi mesi. Io credo che si dovrebbe riflettere, visto che si parla di contaminazione, di preoccupazione di tenere degli ambienti isolati, sono andata in visita in questi giorni ad alcuni nidi, alcune scuole dell'infanzia, alcune scuole dello Stato che si stanno attrezzando, ma perché non tornare al grembiule? Perché non pensare che una divisa potrebbe avere intanto due effetti, quello educativo di un senso di appartenenza, ma soprattutto quello igienico.